Al semaforo rosso gli apre lo sportello dell'auto e lo prende a cazzotti sotto gli sguardi attoniti dei passanti. Violento pestaggio oggi pomeriggio all'incrocio di via Borsellino e via Gentile a Cerignola. Nessuno interviene per paura o mercato mancanza di prontezza e così dalla violenta aggressione la vittima ne uscita una maschera di sangue come gli stessi presenti lo descrivono. Ignoti i motivi alla base del gesto che dalle modalità pare un personale regolamento di corti.